La vita per alcune persone è un continuo susseguirsi di delusioni, e Mike Myers ne sa qualcosa. Dopo aver perso i contatti con la sua famiglia adottiva e il lavoro di camionista, ha vissuto per le strade per 30 anni, fino a quando un incontro imprevedibile con un poliziotto gli ha cambiato la vita per sempre, e gli ha svelato la sua vera identità. Iscrivetevi rapidamente al canale e seguiteci in questa nuova storia interessante per scoprire tutti retroscena sulla vita di Mick. Julian Hernandez Prima di parlarvi di Mick, vogliamo accennarvi la storia di Julian Hernandez, un adolescente che ha ricevuto una sorpresa sconcertante quando ha deciso di iscriversi all'università. I suoi dati anagrafici presentavano delle anomalie, e dopo aver chiesto aiuto a un consulente scolastico, Julian ha scoperto che la vita che aveva vissuto fino a quel momento era tutta una bugia. Le indagini hanno rivelato che Bobby Hernandez, suo padre, lo aveva rapito 13 anni prima, all'età di 5 anni dalla casa di famiglia, e aveva fabbricato delle identità false per entrambi. Quando è stato arrestato, Julian ha avuto comunque la forza di chiedere ai giudici di non condannarlo, perché nonostante le bugie lo aveva sempre amato e protetto. Riuscite a immaginare quanto deve essere devastante una notizia del genere? Mick Myers Adesso passiamo subito alla storia di Mick Myers, un uomo dall'infanzia difficile, che ha trascorso gran parte della sua vita adulta all'addiaccio per le strade, completamente ignorato dalle persone che un tempo aveva considerato amici e familiari. Per fortuna non tutti si erano dimenticati di lui, e un incontro imprevisto è riuscito a cambiargli la vita per sempre. Per comprendere appieno il retroscena di questa storia, dobbiamo fare un passo indietro, e cominciare dall'inizio. Mick è nato nel 1950, ed è stato dato in adozione alla famiglia Myers, che abitava in California e desiderava una famiglia più numerosa. Per anni il suo nome e la sua provenienza sono stati la sua unica certezza, ma presto anche quella sarebbe crollata inesorabilmente. Da bambino Mick era stato il classico bravo ragazzo, prendeva sempre buoni voti a scuola, aveva degli amici affidabili e suonava persino nella banda locale. Era un tipo tranquillo e piuttosto timido. Si teneva lontano dai guai e sapeva farsi amare dalle persone a cui era affezionato. Crescendo però, la sua situazione ha iniziato a cambiare. Sebbene la madre adottiva fosse sempre stata affettuosa nei suoi confronti, il resto della famiglia non l'aveva mai accolto con particolare calore. I suoi fratelli e le sue sorelle lo trattavano come un estraneo, cementando in lui l'idea che non appartenesse veramente alla loro famiglia. Mick ha cominciato ad isolarsi e trascorrere sempre più tempo da solo, perdendo poco alla volta quelle poche amicizie che si era guadagnato. La verità gli è piombata addosso quando aveva solo 16 anni. Quella scoperta lo ha aiutato a capire come mai la sua famiglia fosse tanto scostante nei suoi confronti e perché si sentisse sempre fuori posto tra di loro, ma allo stesso tempo lo ha gettato in uno sconforto inconsolabile. Chi era veramente? La seconda batosta lo ha colpito poco tempo dopo. I suoi genitori adottivi sono morti e insieme a loro le uniche persone che lo avessero mai amato in vita sua. Dopo la scomparsa dei genitori adottivi, gli altri membri della sua famiglia gli hanno voltato le spalle e hanno fatto in modo di interrompere tutti i contatti. Mick è rimasto completamente solo e si è dovuto rimboccare le maniche per trovare il modo di sopravvivere. La prima cosa di cui aveva bisogno era un lavoro e per fortuna ne ha trovato uno che gli piaceva molto. Le mansioni da camionista gli permettevano di viaggiare in lungo e in largo per il paese per settimane intere, senza dover contare sull'appoggio di un'abitazione stabile. Sebbene non avesse molte opportunità di fare conoscenze sul lavoro, Mick ha stretto un forte legame con i suoi colleghi e per un breve periodo ha avuto la sensazione che la vita gli sorridesse. Purtroppo però le cose belle non durano mai a lungo e qualche tempo dopo un nuovo ostacolo l'ha riportato al punto di partenza. Mick è stato licenziato all'improvviso e ancora una volta si è ritrovato senza soldi e senza casa. La vita per strada era la sua unica opzione. Nei primi anni da senza tetto suonava la chitarra per procurarsi un pasto caldo con gli spiccioli dell'elemosina, ma racimolava soltanto lo stretto necessario per non morire di fame e la sua situazione rimaneva invariata. I mesi sono diventati anni e gli anni si sono trasformati in tre decenni. Quando non suonava per le vie della città chiedeva l'elemosina sul ciglio della strada più trafficata del paese. Proprio dove un giorno ha incontrato l'uomo che gli ha cambiato la vita per sempre. L'agente Jacobs Walwell conosceva bene Mick Myers, lo vedeva spesso chiedere l'elemosina e gli aveva già intimato di smettere diverse volte, sebbene sapesse che quei pochi spiccioli erano la sua unica fonte di guadagno. Quando si è accorto che le sue munizioni erano state tutte vane, Swalwell non ha avuto altra scelta se non quella di usare il pugno duro. Si è avvicinato a Mick e gli ha chiesto di favorire i documenti per sporgere denuncia contro di lui. Mick ha raccontato alla gente la verità del suo passato, lasciandolo a bocca aperta. Come molte persone, anche Swalwell credeva che i senza tetto fossero dei reietti estromessi dalla società dopo una vita di crimini o dipendenze da stupefacenti. «Ho scoperto che aveva avuto un passato difficile ma pulito», ha dichiarato l'agente. «Non beveva, non si drogava e non fumava nemmeno sigarette. Era solo un uomo triste senza appigli». Mick ha spiegato alla gente che non poteva ricevere sussidi dallo Stato perché non aveva dei documenti e non conosceva nemmeno il suo vero nome. A quel punto il poliziotto ha deciso di aiutarlo. Quanto poteva essere complicato ottenere una carta d'identità. L'agente si è scontrato subito con la burocrazia del paese, ma non aveva intenzione di mancare alla promessa fatta, a quel senza tetto abbandonato da tutti. Per prima cosa Swalwell ha cercato il certificato di nascita di Mick, e quando lo ha trovato ha potuto finalmente comunicargli il suo vero nome, Gordon Michael Oakley. Quell'informazione avrebbe potuto permettergli di conoscere il suo passato e partire alla ricerca della sua famiglia. Mick ha ricevuto la sua carta d'identità nello stesso periodo in cui una televisione locale ha deciso di girare un servizio sui senza tetto della città, per rovesciare gli stereotipi che riguardano le persone che vivono per strada chiedendole lemosina. I giornalisti hanno intervistato Mick e un investigatore privato di nome Mark Askins ha seguito con grande interesse la sua storia al telegiornale. Askins collaborava con un'organizzazione no profit chiamata Messaggi miracolosi, e il suo lavoro consisteva nel riunire senza tetto con i familiari che spesso non sapevano nemmeno di avere. Nonostante Mick non fosse molto ottimista, Askins non si è lasciato scoraggiare, e ha iniziato a scavare nel passato di Gordon Michael Oakley, cercando un indizio che potesse collegarlo con qualcuno dei suoi parenti ancora in vita. Quell'incarico era una sfida che non aveva intenzione di perdere. Dopo settimane di ricerche, l'investigatore si è imbattuto finalmente in un nome promettente. Marie Pauline Oakley, che in un solo documento archiviato molti anni prima veniva citata come la madre biologica di Mick. La donna risultava ancora viva, e abitava a soltanto 400 chilometri di distanza. Quando Askins ha comunicato la novità al suo cliente, Mick non riusciva a crederci. Aveva perso le speranze di ritrovare la sua famiglia biologica qualche decennio addietro, e non avrebbe mai potuto immaginare che sua madre fosse ancora viva. Nella sua immaginazione doveva avere all'incirca 80 anni. Mick ha ringraziato Askins per il lavoro, ma per gli investigatori il suo compito non era ancora terminato. Voleva assistere al momento in cui il senza tetto si sarebbe finalmente riunito con i suoi consanguinei, e non se lo sarebbe fatto scappare per niente al mondo. Le ricerche successive hanno rivelato tutta la verità sui genitori biologici di Mick. Marie Pauline e Wiley Albert Uckley si erano sposati a soli 16 anni, e avevano avuto una vita complicata. Per anni avevano abitato in una capanna pericolante infestata di animali, e dopo la nascita del primo figlio, Marie aveva dovuto rinunciare al lavoro. Suo marito non guadagnava molto, e la coppia faceva affidamento soltanto sulla suocera, la madre di Wiley, che le aiutava cucinando cibo per il bambino. Marie era spesso così affamata che si arrendeva a rubare le verdure dall'orto del suo vicino. Quando è rimasta incinta una seconda volta, ha capito che non sarebbe riuscita a crescere un altro bambino in quelle condizioni, e ha divorziato dal marito. Gordon Michael era nato in perfetta salute, ma all'età di due anni i dottori gli avevano diagnosticato un problema allo stomaco che avrebbe potuto stroncargli la vita. Marie sapeva che non sarebbe mai stata in grado di pagare il costo dell'intervento. Perciò, per il bene del suo bambino, aveva deciso di dare il figlio in adozione, nella speranza che venisse accolto da una famiglia benestante. Mick era sopravvissuto all'operazione, ma la sua vita con la famiglia adottiva non aveva rispecchiato affatto le aspettative di sua madre. Marie non aveva mai smesso di pensare al suo piccolo Gordon e di chiedersi che fine avesse fatto. Finalmente l'avrebbe saputo. La prima volta che lei e Mick hanno comunicato, si sono parlati per telefono. Avevano più di 60 anni di vita da raccontarsi, quindi un incontro faccia a faccia è sembrato ad entrambi la scelta migliore. Dopo due settimane, Mick è salito su un aereo che lo avrebbe portato tra le braccia di sua madre, accompagnato nel primo volo della sua vita dall'agente Swalwell e dall'investigatore Askins, le persone che avevano reso possibile tutto questo. Quando è atterrato, Mick si è ritrovato stretto nell'abbraccio di una giovane donna di nome Shannon, che si è presentata come sua nipote. Quel giorno, infatti, Mick ha scoperto di avere non solo una madre, ma anche un fratello, una sorella, dei nipoti e persino alcuni pronipoti. Finalmente Gordon Michael ha ritrovato la strada di casa ed è stato accolto a braccia aperte da una grande famiglia che non lo abbandonerà mai.